Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ma è un chiavatore professionista Voglio dire, ho le mie passioni come tu, mi hai detto che hai le tue prima comunque Forca miseria, ho capito, ho una spacca di brutto Ovviamente ho tante cose da fare durante la giornata E avendo tante cose da fare, poco tempo fa mi è venuto in mente di monetizzare anche certe mie passioni Perché ovviamente le ragazze sono un impegno di tempo, un impegno di soldi Perché ovviamente le cene... Ma devo dimostrare che esistono Se dico che esiste Dio, devo dimostrare io che esiste Perché altrimenti la stessa cosa vale per Babbo Natale, Torro, Vido Non imitare Grimbaud però, perché tu non mi confondi Ok, va bene, posso parlare? Certo Che sta succedendo? Sono simpatico però Si dimostra ciò che non esiste, si dimostra ciò che esiste Se io domani vado a Stoccolma e dico agli scienziati Dimostratemi che i buchi viola non esistono E loro mi dicono, non possiamo, quindi esistono No! Se io dico che esistono i buchi viola, devo dimostrare che esistono Se dico che esiste Dio, devo dimostrare io che esiste Perché altrimenti la stessa cosa vale per Babbo Natale, Torro, Vido È lui, è lui, è lui, è lui È lui ragazzi l'esperto È lui l'esperto Questo non capite, voi vi fermate 10 milioni, oddio 10 milioni È lui, è lui l'esperto ragazzi Sono veramente curioso Cioè non è che io adesso È lui, è lui, è lui Non lo so, sono un robot, non sono più di car Cosa cambia? Vediamo Cazzo, ti prego L'unica cosa che cambia Ti prego è che se domani non ho più 10 milioni Ti prego So come li posso rifare Stop, questo cambia Non per me 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 Scusate Mi hai detto Petz dai Stasera Petz non è in forma Dai sei stasera Ma dov'è questo brufolettino che lì che Ma chiedetegli di cantare Farfalle di San Giovanni No, basta smettilo Ah, non vuoi Vai canta Farfalle di San Giovanni No Dai È una casa un po' piccola Sembra fatta per te Mettiamo la base dai È diventata la nostra La guanda piccola Si canta tutti Pancino Grande ninja Ciao 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 Cazzo è vero che sembra ninja? Eh, lo sto a dire Minchia ragazzi che... Madonna mia Beh, quanto mi è piaciuto oggi mi è piaciuta proprio tanto Ma lo so Me la sono potuta oggi Valentina è nervosa No Valentina veramente Devi prenderla Adesso tutto rispetto per l'essere umano che è Ma è un cartone animato È un cartone animato Che ti guarda Perché magari... È Slim Shady boy Ah Ehi, no no, no no Siamo pronti Ehi Si lo posso rifare Si lo posso rifare E se l'ho fatto una volta Si lo posso rifare E sono qui per giocare E voglio anche spaccare su questa base qua Ehi, mi son ritrovato a fare del freestyle se... Anche se alla volte tu non lo sai che... Ci son rimasto male quando scrivi Jody out Come quando il mio gatto fa miau miau È Satoshi che l'altro giorno mi ha preso bene E allora ho preso Muni e l'ho visto il pene Ho detto ma mica era una femminuccia Guarda che questa è una scaramuccia E no, faccio freestyle come negli anni 90 Questa tipa si, io la metto a 69 Perché lo preferisco al 90 9 è quello che io fisco Ehi, una volta ho preso una tipa e le ho detto ciao Il mio gatto miau Ho donato perché mi sono divertito e mi stai simpatico Domani con tutti dono 10.000 Ci sono ragazzi scusate No, sono assessuale Faccio sesso con i papiglioni Passivo o attivo? Passivo Ok, non voglio sapere se i papiglioni siano grower o shower Grazie Gag, grazie mille Ciao Prego Ciao bello, grazie Ti ringrazio sempre Ciao Gag Se l'Italia non sia più sovrana per questo Però visto che la chiesa però Cioè che l'Italia è indipendente Facile da capire però figa Non è difficile eh No È facile da capire Quello che ti ho appena spiegato un miliardo di volte Cioè che l'indipendenza in realtà dell'Italia Sta pure nell'essere uno stato laico e quindi non dire Non è vero Non è vero perché mai Sai cosa era l'indipendenza? Cioè allora quando l'Italia era confessionale Allora lo stato della chiesa comandava sull'Italia Sì è stato così Ma cosa puoi insegnare uno così? Cosa insegna? Non sono più contenti che sono droga Cioè sei spazzatura per gli italiani, per Twitch, per tutto Sei spazzatura Oh ma fra, ma tu stai zitto fra che? Fra, fra, tu sei un personaggio costruito fra non vali un cazzo zi Sei un personaggio costruito fra Tu fai figo nelle storie e fra ti capisci Fra non vali niente zi capisci Ti smonto il tuo personaggio dal cazzo fra se voglio capisci fra Io so ce li capisco Stavo cercando di dire, no? Ora, seppur Scherzo Ok Seppur io sia più sulla linea di Andrea Cioè non mi piace distinguere il piano fisico da quello metafisico Ammettiamo pure che Dio sia un'entità esistente in un'altra dimensione Tuttavia, proprio perché noi non abbiamo le prove materiali per dimostrare la sua esistenza sulla terra E su questo conveniamo entrambi Per quale motivo la sua esistenza distante dovrebbe condizionare la nostra vita sulla terra? Perché lui dovrebbe dettare legge dicendoci delle cose tipo che masturbarsi è immorale Tipo che il sesso prima del matrimonio non si può fare Anche se lui nella nostra realtà non dovrebbe avere alcuna influenza Per questo non credo in Dio Non lo so Eh Eh, effettivamente non lo so È mica se non io credo È una casa mia quindi Sì, chill Chill Ma Aliscu Alis ha fatto una domanda Cioè alla fine non abbiamo capito in che modo tu hai fatto questi 10 milioni Cioè Col trading Col trading Varie cose Inizialmente col trading Poi altre cose che Aspetta Cioè Ti devo dire tutto L'ho capito E se vuoi raccontarci insomma Eh, è anche per questo no? No Allora Mi sono fatto questo No, non lo so Ok, ok, ok È possibile che tu li faccia crescere Però Il punto è che il mio dubbio è che Tu non li faccia crescere perché Eh Cioè li fai crescere sulle spalle di quelli che sono nel gruppo, capito? Questo è un po' Cioè davvero mi state dicendo quello? Ma siete capiti? Io, eh Non lo so Io penso così Trading Trading Non porto nessuno Io ho l'unica persona che porta Ok, ok Facciamo un esempio Io la sì Poco sì C'è una decente C'è una decente Si sai cosa ti dico? Ah vabbè Ho tenuto poi la cosa di me contro te Oddio Ma come sono uffici, cazzo? Ma figa ma che cazzo? Rino è una città del lavoro Cioè Ma ho capito È città del lavoro davvero D'altronde è la Ah perché sei altra? La Perché sono dalla mia fidanzata Così 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 Vabbè ormai Ormai si sapeva La lancia proprio No la lancia Ormai si sapeva ragazzi Hai capito Fai vedere Bravo Il corpo È come Cioè Rendi lecito di sessualizzare Eh in realtà la mia domanda era questa Però non volevo capito che fossero Rendi lecito scusami Sessualizzare è brutta mia parola Sessualizzare Però letteralmente è come un panettiere Magari viene riconosciuto dai clienti in giro Per il pane che fa no? Per il suo lavoro Quindi se tu sei una donna E mostra il suo corpo E ci sta che vieni riconosciuto per il tuo corpo Ma è normale ed è giusto Che sia così Poi ovvio c'è sempre l'educazione di mezzo No ha capito E' la mia domanda iniziale Ti ricordi la polemica che c'è stata? Però guarda quanto sono bianche Si sono bianchissime veramente E lo tussano eh? Si Mi fido questa la parola diciamo dai Ciao Grazie Charvin Grazie mille Verano dove stracazzano Vabbè si stava preparando Assurdu Ciao Jack Giù che Giacomo viola E lì ai 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 Grazie Grazie Alex Ma ragazzi è la mossa Cioè ovviamente magari scarpe più Ciao clienti voglio bene grazie della compagnia Ma incredibile Dormono tutti a Torino Questo 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 è l'ultimo l'ultimo del palazzo che non è un ufficio Grande zio Non era uno Non parlo con te scusa Questo è l'ultimo Era lui? Si Ti offesa Ma ti parla? Non mi serve la poltrona Non mi serve niente di tutto ciò Ok sei tu che dici questo Sei tu che sei soffermato per la live Non parla Ma si vede da come Guarda io parlo Tu mi parli sopra Cioè hai passato tutti i confronti che ci sono stati sono andati così Non sei riuscito a far parlare una persona senza interromperla E senza ascoltare quello che persone stavano cercando di dirti Eri sempre lì a dire no aspetta No guarda che è così Non si fa così Impara Cioè A stare al mondo proprio Perché lo si fa così Se tu dici la cazzata Io ti rispondo Vabbè comunque 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 Tranquillo Analisco solo io voglio diventare ricco Dai David basta Lasciai perdere questi Raga cioè sinceramente Ma come no Ma io te do mille euro Voglio diventare ricco